Benvenuti a tutti. In questo video tutorial faremo vedere come inserire la domanda per assistente tecnico per le gradatorie di istituto di terza fascia personale ATA del triennio 2021-2023 per poi compilare proprio questo riferimento, questo profilo professionale di assistente tecnico. Ovviamente l'assistente tecnico può essere fatta questa domanda per chi ha diplomi specifici per le aree del profilo di assistente tecnico, per esempio il diploma di maturità scientifica, ma tanti anche altri diplomi, però non tutti i diplomi. Ecco, andiamo a vedere come fare. Allora, andiamo a fare l'inserimento della domanda, procediamo con l'inserimento della domanda facendo, qua abbiamo due opzioni, o nessuna operazione, oppure inserimento. Dunque andiamo a inserire questo riferimento di assistente tecnico. Facendo avanti entriamo proprio nella domanda dove troviamo il profilo per cui abbiamo chiesto l'inserimento. A questo punto possiamo incominciare a compilare la domanda facendo attenzione che gli asterischi, vedete questo asterisco è una sezione obbligatoria, come anche questo asterisco è un'altra sezione obbligatoria, e dunque vanno compilate obbligatoriamente. Andiamo alla prima azione per inserire il titolo di accesso. Ecco, qui si inserisce il titolo di accesso, cioè il diploma di maturità, conseguito per esempio nell'anno 2020, con votazione facciamo 100 su base 100, chiaramente poi ci sarà un convertitore che porterà in decimi, e poi scegliamo l'istituto, cioè indichiamo l'istituto su cui si è stati diplomati, si è preso il diploma di maturità scientifica, liceo scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria, e andiamo a inserire anche la data di conseguimento, abbiamo detto 2020, il 1 luglio del 2020, poi si fa, si sceglie la modalità, siccome un nuovo inserimento si va sulla modalità A, si inserisce la modalità A, e si fa poi, inserisce, e così la sezione è compilata, il titolo di accesso salvato con successo, vedete questa scritta in sfondo verde, ci dà il successo dell'operazione, poi si fanno anche i titoli specifici di assistente tecnico, e si va a compilare anche il titolo specifico, con il riferimento dell'area, del profilo dell'area e del laboratorio, si aggiunge il titolo, si inserisce il diploma, tra tutti i diplomi si va a scegliere quello della, per esempio nel caso nostro, della maturità scientifica, dunque andiamo alla lettera M, maturità scientifica, ci sono anche altri tipi di maturità, chiaramente, vedete quella artistica, ma noi scegliamo quella scientifica che è di riferimento, rinseriamo questo titolo che dà diritto proprio all'inserimento al laboratorio, per esempio di fisica, anche in questo caso, qui dobbiamo invece inserire proprio l'anno scolastico 2019-2020 e di nuovo proprio l'istituto, dicevo, scientifico di Reggio Calabria, mettiamo anche il da Vinci, anche qui la data di conseguimento la inseriamo, il primo luglio, e ce ne si fa, inserisce, dunque viene inserito, vedete anche qui con successo il titolo, poi si potrebbero inserire anche altri titoli se si ha la patente di guida D oppure il patentino per la conduzione di caldaia a vapore, si inseriscono in queste aree. Si può chiaramente, tornando indietro, inserire anche altri titoli specifici di eccesso, cioè se una persona avesse due titoli di maturità e dunque ha accesso, può chiaramente inserire, aggiungere un ulteriore titolo, vedete, si può aggiungere un ulteriore titolo e dunque avere più aree di riferimento come assistente tecnico. Torniamo indietro, facciamo il riferimento adesso ai titoli culturali. Andiamo ad aprire la scheda dei titoli culturali, per esempio un titolo informatico, inseriamo anche questo, per esempio aggiungiamo, dichiariamo sotto la propria responsabilità che nessuna delle certificazioni informatiche qui dichiarate è stata già valutata nei precedenti trienni, ma siccome questo è un nuovo inserimento, diciamo, è del tutto ovvio, ma comunque bisogna selezionare. E poi la certificazione informatica si sceglie tra quelle elencate, per esempio l'iPASS, rilasciato da Accademia Archimede, e anche qui l'anno di riferimento, per esempio il 2021, febbraio 2021, il 10 febbraio 2021, si fa inserisci ed ecco che il titolo anche culturale è stato inserito. Speriamo che questo video tutorial sia stato di vostro gradimento e soprattutto utile. Seguiteci ancora nei canali social, Facebook e YouTube, faremo altri video tutorial per altri profili. Un saluto a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!